Come hanno fatto a segnare? Ti ho preso da dietro con ledshot Ho ucciso uno dopo dieci anni Andiamo Munition Vai Maddo Ho fatto la kill del millennio No Mamma mia Ti ho preso Tutto il resto sono Anche te Vai 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 Che kill lass No no Sì Maddo Listo Muoi Ehm è bravissimo Dopo che hai le flag Cosa ti fai? Eci mi ammazzi Cadàver Si chiama cadàver Vai muori Ti ho preso E tu Muoio io No Muoio tu invece Che cacchio sta succedendo? Cos'è sto? Dai 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 Dripla Bene No 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 Uno con cecchibone Ci corro davanti e lo prendo Eh Per State 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 Non ho idea di cosa sia successo I've got the flag Siamo due a uno Maddo che kill Che cosa ho fatto? Piggiati non lo so Non morire Ti ho preso Mi fa molto piacere Guarda Ma cosa caspita Dicono queste voci Perché non le aggiornano? L'ho ucciso Non me ne frega niente L'ho ucciso Parà L'ho preso Ti ho Maddo da di 800 metri